In arrivo a Eidio, preparati alla battaglia. Seleziona i tuoi eroi. Nella discordia, troveremo la serenità. Innalzo il tuo spirito. Fortuna che sei un robot. Non era un invito a parlarmi. 5, 4, 3, 2, 1. Fremorate. Conquistate l'obiettivo. Tenete la posizione. Sono con te. Non si può sfuggire. La sconfitta non spezza chi persevera. Non si può sfuggire. Non si può sfuggire. Non ti può sfuggire. . L'esito non è mai preordinato. I nemici sono più numerosi di noi. Che mi serva da promemoria? La vita non è semplice. I nemici sono più numerosi di noi. La presunzione è un fragile scudo. Primo round. La morte non può fermare gli eroi. Punteggio. Selle a uno. Hai uno sguardo intenso, dottore. Sto pensando a come utilizzarti al meglio. Nello scontro imminente, intendi? Forse. Cinque, quattro, tre, due, uno. Spermo l'aria. Compostate l'obiettivo. Ecco. Non. Questa qui si è messa. Questa qui si è messa. Quella che si è messa. Chi teme la sconfitta ha già perso. Marcisci. Non mi piacciono le foglie. Non mi piacciono le foglie. La mia è... Le riempie. Non mi piacciono le riempie. Dietro di te. Conquisto l'obiettivo. Il mio spirito brucia. Grazie a tutti. 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 Meglio di così. Il dolore è un eccellente maestro. Prendo l'obiettivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.